Concentrati sul presente e sulla corsa play-off, ma con un occhio di riguardo anche per il futuro prossimo, che il Sudirol ha già iniziato a pianificare nel segno della continuità. Mister Stefano Vecchi siederà infatti sulla panchina bianco-rossa, anche nella prossima stagione. Con largo anticipo, la società di Via Cadorna ha rinnovato la fiducia al 41enne allenatore bergamasco, prolungandogli il contratto di un anno segnatamente sino a giugno 2014, al pari di tutti i suoi più stretti collaboratori, ovvero l'allenatore in seconda Stefano Manfioletti, il preparatore atletico Fabio Trentin e il preparatore dei portieri Reinold Arrasser. La conferenza stampa, tenutosi al Four Points Sheraton di Bolzano, ha suggellato il rinnovo contrattuale del 41enne allenatore bergamasco e del suo staff. Ma è sicuramente motivo di fiducia e di stima da parte della società e anche reciproca da parte mia e del mio staff. Il fatto che la società abbia già deciso di riconfermare e di apprezzare il nostro lavoro fatto indipendentemente da come vada a finire il campionato di questa stagione ci rende sicuramente orgogliosi e ancora più responsabili per quello che sarà da qua alla fine del campionato. È un rinnovo che contempla anche il prolungamento di contratto dei tuoi collaboratori. So che tieni particolarmente a mettere in luce il loro lavoro. Sì, 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 sicuramente. Poi di solito lavorano un po' dietro le quinte, non sono, diciamo così, non appaiono quanto appaio io, però il loro lavoro è sempre molto importante, la loro competenza e la loro professionalità sta dietro ai risultati che stiamo ottenendo fino adesso. Prolungamento di contratto anche per Hannes Fink, che si è legato all'FC Südtiro per altre tre stagioni, segnatamente sino a giugno 2016 che è ormai diventato uno dei calciatori simbolo del club bianco-rosso, nel quale ha affinato il suo talento sin dal settore giovanile e col quale è ormai prossimo a tagliare il traguardo delle cento presenze fra i professionisti. Sì, sono molto contento di aver firmato un altro contratto. Tre anni è un periodo abbastanza lungo, abbiamo dei obiettivi importanti e sicuramente ci metteremo tutto e speriamo di raggiungerli il più presto possibile. 11 partite alla fine, quanto credete in questa Serie B? Sicuramente quest'anno abbiamo un'occasione grandissima perché come ha detto il mister non tutti gli anni ti trovi a giocarti per un posto di playoff o forse anche per il primo posto, insomma non sarà facile, però ci metteremo tutto fino alla fine e poi vediamo cosa ne esce.